Il dottor Antonio Tramonte è candidato al Consiglio regionale con la Lega. Il suo slogan, presente appunto nei suoi volantini, è il seguente La sanità non è un business, il lavoro è un diritto, la scuola è il futuro. Dunque, questi tre elementi cardine, la sanità, il lavoro e la scuola. Sì, sono questi i tre punti fondamentali del programma. Tre punti fondamentali che ho sempre ritenuto indispensabili per la crescita futura di un paese. Ovviamente la sanità, il diritto alla salute e quello di curarsi, l'istruzione, perché ovviamente è quello che garantisce il futuro, e il lavoro che ovviamente dà dignità alla persona e all'uomo. E questi sono tre argomenti fondamentali dove nella nostra terra purtroppo sono deficitari tutte e tre. Ne aggiungerei anche un quarto, perché ovviamente non c'era abbastanza spazio nel volantino, è quello di prendersi cura dei beni culturali del nostro territorio. Perché sono l'espressione di quella che rappresenta la vera origine, il caposaldo della nostra terra. Il ricordo di quello che è stato il passato e quindi ovviamente il punto di riferimento di quello che può essere il futuro.